Sicuramente abbiamo qualcosa da mettere a posto, sicuramente come vi ho già detto in questi giorni il fatto di aver perso dei giocatori fa anche iniziare un tipo di lavoro diverso anche perché dei giocatori che magari avevano anche giocato meno adesso devono dare il loro apporto alla squadra e quindi sì. Tutte le partite sono difficili, sono brutte. Questa dopo la sconfetta di Avellino è peggio andare a affrontare una favorita del campionato? È meglio perché magari c'è meno pressione? Ma sicuramente la pressione è tanto su di loro ma la pressione deve essere anche su di noi nel senso che le partite per essere vinte vanno giocate e domani io voglio vedere in campo una squadra aggressiva, una squadra che ha voglia di dar del filo da torcere al Frosinone. Sappiamo benissimo la qualità di questa squadra, sappiamo benissimo quante differenze ci sono sotto tanti punti di vista ma allo stesso tempo io voglio vedere nei miei ragazzi uno spirito diverso rispetto a quello che è stato messo in campo con l'Avellino. Voglio vedere una squadra che si aiuta, una squadra che lotta tutte insieme e una squadra che cerca comunque di mettere in difficoltà un avversario forte come il Frosinone. Ma se fosse così dovremmo preoccuparci noi, dovremmo preoccuparci noi, la voglia che avranno loro di vincere sarà sicuramente uguale alla nostra voglia di vincere perché la voglia di vincere ce l'hanno tutti, è come arrivi a vincere che fa la differenza e quindi quello che metti in campo e alla fine io domani mi aspetto dai miei ragazzi una prova da questo punto di vista di alto livello. Poi dopo, come ho già detto, è normale che affrontiamo una squadra fortissima, una squadra che ha ambizioni completamente diverse rispetto a quelle nostre ma allo stesso tempo, come ho già detto, si va in campo 11 contro 11 e iniziamo a battagliare. Sì, anche perché io ho rivisto tre volte la partita e sinceramente nonostante questo il Brescia comunque ha messo in campo qualcosa, ha cercato di giocare sbagliando magari i tempi, giocando a volte sotto ritmo, sbagliando tanti palloni dal punto di vista tecnico e nonostante questo siamo riusciti comunque a creare delle occasioni per poter pareggiare la partita e poi sappiamo che a volte quando magari pareggi la partita ti scatta qualcosa che ti dà la possibilità poi di fare qualcosa di più bello. Non ci siamo riusciti perché abbiamo sbagliato tanto ma bisogna migliorare come lucidità, come voglia e come atteggiamento ma soprattutto come unione di gruppo perché i ragazzi si devono aiutare in campo, devono diventare un qualcosa di unico e se c'è qualche compagno in difficoltà, aveva aiutato. E proprio della gara della Puglia, abbiamo parlato proprio con tutti i miei, che se i suoi filari, quella brutta, brutto approccio iniziale, forse addirittura se andiamo a vedere altre partite di occasioni, direi proprio da voglia, avete appunto anche abbastanza, cioè magari anche più di quello Certo, certo, questo è il lato positivo. No, non è che dà fastidio, è da dove bisogna partire perché se noi in una partita giocata non bene, sotto ritmo e con un approccio iniziale comunque sbagliato, riusciamo nell'arco di una partita difficile a creare comunque delle opportunità, bisogna assolutamente puntare su un qualcosa di più dal punto di vista appunto dell'unione di gruppo, della voglia di conquistare punti e vittoria. C'è qualche gruppo che non sarà la partita mista? Sì, purtroppo Torregrossa non sarà della partita perché ha avuto un problema nell'allenamento di stamattina e quindi sicuramente lui non ci sarà, non ci sarà Ferrante perché all'inizio settimana ha avuto dei problemi anche lui fisici e quindi poi alla fine bisogna fare delle scelte, dovevo fare una scelta nel reparto arretrato, purtroppo non siamo messi assolutamente bene, ho portato Mangraviti al posto di Ferrante proprio per avere un'opzione in più. Detto che i vittori si guadagnano col gruppo, come ha detto, ma si aspetta qualcosa, tra virgolette di più, dei giocatori più esperti? In questo senso vi leggo una seconda domanda, cioè Mauro e da l'inizio per non fare qualità esperienza? No, io non mi aspetto da parte di… è normale, tutti ci si aspetta da quelli che hanno più esperienza un qualcosa in più, ma io mi aspetto qualcosa in più anche da quelli che di esperienza ne hanno di meno perché un conto è avere esperienza per gestire i momenti della gara, un conto è poi dopo in realtà anche se non hai questa esperienza dovuta all'età, dovuta alle partite giocate, dovresti avere una tigna, una cattiveria agonistica, una voglia ancora superiore rispetto magari a quella che di esperienza ne hanno di più. Quindi questo mix di cose è quello che ci dà poi… ci potrebbe dare un qualcosa di importante. Si parlava prima di emergenza, ha ricordato le assenze in difesa, però la storia è grossa, Ferrande, Caracciolo, comunque si è allenato più un po', ha avuto l'attenzione anche lui, c'è un'emergenza anche in atto? Ma sì, ma sai le nostre emergenze anche settimana scorsa sono sempre state un po' sottovalutate anche nei mesi, nell'ultimo mese e mezzo nel girone d'andata, quando abbiamo avuto diversi infortuni, però io penso che quando un gruppo lavori sempre al top, anche quelli che hanno poi delle opportunità le devono sfruttare, quindi io non voglio mettere responsabilità o pressioni ulteriori a dei ragazzi, però voglio che loro scendano in campo, come ho già detto, con tigna e voglia di conquistare punti. Questa è la cosa più importante, questa è la cosa che io voglio vedere da ogni singolo giocatore e non è detto che perché si hanno delle assenze non si possa mettere in campo questa, che secondo me è più semplice che magari mettere in campo altro che magari puoi non avere. Una caratteristica è anche personalità, che è un campo difficile, vista anche l'assenza davanti, considerando che un giocatore può giocare anche nel quarto avanzato, può essere domani e sarà giusto per lanciare Mauro? Sì, sì, potrebbe assolutamente essere, anzi Mauro gioca dal primo minuto, dai così almeno. Sì, questo è un po' come abbiamo già detto tante volte, le retrocesse, le neopromosse sono quelle che hanno un qualcosa in più, lo dimostra la classifica, ma lo dimostra anche chi va dentro e non si ferma al nome della squadra o al resto, perché quando tu hai una squadra che scende dalla serie A vuol dire che comunque dei valori li ha, se hai un paracadute che ti permette di poter andare a prendere dei giocatori o a tenere anche dei giocatori in serie B, è normale che poi hai più forza rispetto ad altre squadre. E le altre, le neopromosse che hanno avuto la possibilità di già formare uno zoccolo duro l'anno scorso e poter inserire, grazie magari a pochi giocatori da dover inserire nella rosa, ma mettere dentro giocatori di grande qualità, è normale che ti permettono di avere un qualcosa in più. Si aspettava qualcosa di andare al mercato per la difesa? Ma è normale che per un allenatore il fatto di poter avere i giocatori che ti mancano subito, di poter affrontare subito le partite al completo, è molto meglio. Però allo stesso tempo c'è la volontà di portare il giocatore giusto, non di riempire una casella. E quindi se portare il giocatore giusto implica il fatto di dover avere pazienza, è meglio avere pazienza e rischiare come stiamo facendo noi, essendo molto corti nel reparto difensivo, gioco, però la speranza è quella di riuscire a prendere il giocatore che poi dopo ci darà una grossa mano e appunto non riempirà la casella. Per se è pronto per giocarlo? Sì, non è al 100% perché purtroppo ha avuto dei piccoli problemini da quando è arrivato e quindi non è ancora in una forma ottimale, non aveva giocato tanto logicamente anche prima ad arrivare, non possiamo pretendere che sia già al top della sua forma, soprattutto per i pochi allenamenti che ha fatto con noi e per le poche partite che aveva giocato prima di arrivare. Il giocatore oggi viene con Fissioni, Mauri gioca dal primo minuto, per se gioca dal primo minuto? Per se gioca dal primo minuto, giochiamo con Untersi, Lancini, Fontanesi, Persecoli, Pinzi, Bisoli, Martinelli, Mauri, Buonazzoli. Sì, ha cambiato filosofia, io penso che l'abbia fatto più che altro da quando ha avuto il problema di Paganini, che ha avuto dei problemi, un infortunio e quindi l'ha portato a fare delle scelte dovute anche secondo me alla qualità dei suoi singoli giocatori, a Dionisi che può giocare e magari sfrutta meglio le sue qualità giocando di fianco a Ciofani, diventa più incisivo, un centrocampo di grande qualità e quantità e ha una difesa che logicamente giocando così con gli interpreti che ha garantisce una solidità importante. È chiaramente questo il profilo, se vogliamo andare dentro nei particolari è normale che se guardiamo tutte le squadre della Serie B hanno tutti un giocatore che dà esperienza al reparto e noi abbiamo sicuramente degli ottimi giocatori che hanno sicuramente delle grandissime qualità e il fatto di poter inserire magari uno che dà ancora più fiducia al reparto può essere sicuramente un valore aggiunto come poteva essere e come è stato Bubnic nelle partite che ha giocato.